Ora, quel che Wang Lung aveva fatto non si riseppe in fretta perché lui non ne parlò affatto e perché avrebbe dovuto lui che nella sua casa era il padrone. Ma all'occhio di Cucu fu il primo ad accorgersene e vide la ragazza che scivolava fuori dalla sua corte all'alba. Allora la bloccò e si mise a ridere e i suoi occhi di vecchio falco scintillavano. Ma bene, disse, ecco di nuovo l'anziano signore. E nella sua stanza Wang Lung sentendola si allacciò rapidamente la vestaglia e uscì con un sorriso imbarazzato e mezzo orgoglioso e borbottò. Beh, gliel'ho detto che doveva prendersi un giovane e lei ha voluto il vecchio. Sarà una bella cosa da raccontare alla padrona, disse allora Cucu con gli occhi scintillanti di malizia. Non so nemmeno io com'è successo, rispose lentamente Wang Lung. Non avevo intenzione di aggiungere un'altra donna alle mie corti ed è successo da sé. Poi quando Cucu disse, beh, bisogna dirlo alla padrona. Wang Lung, che temeva la rabbia di loto più di qualsiasi altra cosa, supplicò Cucu e disse ancora, diglielo tu se vuoi e se riesci a evitare che si arrabbi con me ti darò come compenso una manciata di monete. Sempre ridendo e scotendo la testa, Cucu promise e Wang Lung tornò alla sua corte e non ne uscì fin quando lei non fece ritorno e disse, bene, la cosa è stata detta ed era piuttosto arrabbiata finché non le ho ricordato che da moltissimo tempo voleva l'orologio straniero che le hai promesso e vuole un anello con rubino e ancora un altro in modo da averne uno per ciascuna mano. E vorrà ancora altre cose che le verranno in mente e una schiava che prenda il posto di fiore di pero e fiore di pero non deve andare più da lei e anche tu non devi andare da lei per un po' perché l'idea di vederti la disgusta. E Wang Lung fu pronto a promettere e disse procurale quello che vuole, non vado a spese. E fu contento di non dover vedere presto loto e comunque fin quando la sua rabbia non si fosse placata con l'esaudirsi dei suoi desideri. Rimanevano ancora i suoi tre figli e provava uno strano senso di vergogna davanti a loro per quel che aveva fatto e continuava a ripetersi. Non sono padrone nella mia stessa casa e non posso prendere la schiava che ho comprato con il mio argento? Ma si vergognava pur essendo a metà orgoglioso come chi prova ancora delle voglie si sente un uomo mentre gli altri vedono in lui solo un nonno e attese che i figli venissero nella sua corte. Arrivarono uno per volta separatamente e il secondo arrivò per primo. Una volta arrivato parlò della campagna e del raccolto e della siccità estiva che quell'anno avrebbe ridotto a un terzo raccolto. Ma in quei tempi Wang Lung non si curava della pioggia e della siccità perché se il raccolto dell'anno gli portava poco c'era l'argento avanzato dall'anno prima e le sue corti erano piene d'argento e i mercati del grano gli dovevano soldi e molti ne aveva prestati ad alto interesse soldi che il secondo figlio raccoglieva per lui e Wang Lung non guardava più per vedere come erano i cieli sopra la sua campagna. Ma il secondo figlio continuava a parlare in quel modo e nel parlare guardava qua e là nelle stanze con occhi velati e misteriosi e Wang Lung capì che stava cercando la ragazza per vedere se era vero quel che aveva sentito e allora chiamò Fiore di Piero nascosta nella stanza da letto ed esclamò portami il tè bambina mia e il tè per mio figlio e la ragazza uscì e il suo viso pallido e delicato era roseo come una pesca e chino la testa e strascicò silenziosamente intorno i piedini e il secondo figlio la guardava come se pur avendolo sentito non avesse potuto crederci fino a quel momento. Ma non disse niente solo che la campagna era messa così e cosà e che bisognava cambiare questo o quell'affittuario alla fine dell'anno e quell'altro perché fumava opio e non avrebbe raccolto ciò che la campagna poteva dare e Wang Lung chiese al figlio come stavano i suoi figli e lui rispose che avevano la tosse dei cento giorni ma era una cosa da poco adesso che faceva caldo. Conversarono così bevendo il tè e il secondo figlio ebbe modo di guardare a sazietà e se ne andò e Wang Lung si liberò del secondo figlio. Poi prima ancora che metà della giornata fosse trascorsa arrivò il primo figlio alto e avvenente e orgoglioso degli anni della propria maturità e Wang Lung aveva paura del suo orgoglio e non chiamò subito fiore di pero ma aspettò fumando la pipa. Il figlio maggiore se ne stava seduto rigido con il suo orgoglio e la sua dignità e si informò alla maniera appropriata sulla salute del padre e su come si sentisse. Wang Lung rispose svelto e tranquillo che stava bene e guardando il figlio la sua paura lo abbandonò. Vide infatti il figlio maggiore per quello che era grande e grosso di corporatura ma aveva paura della propria moglie di città e soprattutto aveva paura di non sembrare nobile per nascita. Il vigore della campagna forte in Wang Lung anche quando non se ne rendeva conto si gonfiò in lui e smise di preoccuparsi del figlio maggiore del suo aspetto così per bene e all'improvviso chiamò tranquillamente fiore di pero vieni bambina mia e versa il tè a quest'altro mio figlio. Questa volta lei uscì molto fredda e silenziosa e il piccolo viso ovale era bianco come il fiore da cui prendeva il nome. Abbasso gli occhi nell'entrare e prese a muoversi con calma facendo solo quel che le era stato detto poi uscì rapidamente. mentre la ragazza versava il tè i due uomini erano rimasti in silenzio ma quando fu uscita e sollevarono le ciotole Wang Lung guardò dritto negli occhi il figlio cogliendovi un disarmato sguardo di ammirazione ed era lo sguardo di un uomo che ne invidia segretamente un altro poi bevero il loro tè e alla fine il figlio disse con voce roca e un po spezzata non credevo che fosse così perché no ribatteva tranquillo ribatte tranquillo Wang Lung e la mia casa. Il figlio fece allora un sospiro e dopo un po rispose sei ricco e puoi fare quello che vuoi e sospirò ancora e disse beh immagino che una non sia sempre sufficiente per un uomo e arriva un giorno si interruppe ma nel suo sguardo c'era la sfumatura di un uomo che ne invidia un altro contro la sua volontà e Wang Lung guardò e rise dentro di sé perché conosceva bene la natura lasciva del figlio maggiore e sapeva che la moglie di città così per bene non l'avrebbe tenuto a freno per sempre e un giorno l'uomo sarebbe uscito di nuovo. Il figlio maggiore non disse altro ma se ne andò come uno a cui sia stato messo in mente un nuovo pensiero e Wang rimase a fumare la pipa orgoglioso di se stesso perché da vecchio aveva fatto quel che voleva. Era già scesa la sera quando arrivò il terzo figlio e anche lui arrivò da solo. Wang Lung stava nella stanza centrale della corte e le candelle rosse erano accese sul tavolo fumava la sua pipa e fiore di pero sedeva in silenzio al lato opposto del tavolo le mani morbidamente incrociate in grembo. Ogni tanto guardava Wang Lung direttamente senza civetteria come una bambina e lui la guardava ed era orgoglioso di quel che aveva fatto. Poi all'improvviso dal buio della corte spuntò il figlio minore e se lo ritrovò davanti nessuno l'aveva visto entrare. Aveva una strana postura quasi acquattato e senza che vi avesse rivolto il pensiero Wang Lung fu assalito dal lampo del ricordo di una pantera che gli uomini del villaggio una volta avevano portato dalle colline dove l'avevano catturata e la bestia era legata ma acquattata come se fosse pronta a balzare. Gli occhi le lucicavano e anche gli occhi del ragazzo lucicavano fissi sulla faccia del padre e quelle sue sopracciglia troppo pesanti e nere per la sua giovane età erano una linea feroce e nera sopra gli occhi. Rimase così e alla fine disse a voce bassa agitata adesso parto soldato parto soldato. Tuttavia non guardò la ragazza ma solamente il padre e Wang Lung che non aveva avuto paura del figlio maggiore del secondo ne ebbe improvvisamente di quel figlio a cui fin dalla nascita aveva badato così poco e Wang Lung cominciò a balbettare e a mormorare e avrebbe parlato ma quando tolse di bocca la pipa non uscì nessun suono e guardò fisso il figlio e il ragazzo ripete più volte adesso parto adesso parto. All'improvviso si voltò e lanciò uno sguardo alla ragazza e lei lo ricambiò ritraendosi e si portò le mani al viso in modo da non vederlo. Allora il giovane distolse gli occhi da lei e in un balzo uscì dalla stanza. Wang Lung guardò il quadrato oscuro della porta aperta nella notte nera d'estate ma lui non c'era già più e tutto era immerso nel silenzio. Alla fine si voltò verso la ragazza e disse in tono umile e gentile senza più orgoglio con una grande tristezza sono troppo vecchio per te tesoro mio lo so bene sono un uomo vecchio vecchio ma la ragazza tolse le mani dal viso ed esclamò in tono più vibrante di quanto lui l'avesse mai sentita esclamare i giovani sono così crudelli io preferisco i vecchi. Il giorno dopo quando sorse il mattino il figlio minore di Wang Lung se n'era andato e nessuno sapeva in quale direzione. 34 poi come l'autunno si infiamma di un falso calore estivo prima di morire nell'inverno così accade il rapido amore di Wang Lung per fiore di pero il suo breve calore trascorse e la passione in lui smorì le voleva bene ma senza passione. Dopo che la fiamma l'ebbe lasciato all'improvviso lo invase il freddo dell'età e divenne un vecchio eppure le voleva bene e saperla nella sua corte era per lui un conforto e lei lo serviva fedelmente con una pazienza superiore ai suoi anni e lui era sempre di una gentilezza perfetta con lei e il suo amore era sempre più l'amore di un padre per una figlia. Per rispetto a lui fiore di pero era gentile persino con la sua scioccherella e per lui questo era un conforto tanto che un giorno le disse quel che aveva avuto in mente da tempo. Wang Lung aveva pensato molte volte a quel che sarebbe successo alla sua scioccherella dopo la sua morte quando non ci sarebbe stato nessuno a cui importasse qualcosa se lei era viva o moriva di fame e aveva comprato quindi alla bottega delle medicine un pacchettino bianco contenente un veleno e si era detto che l'avrebbe dato alla sua scioccherella quando avesse visto avvicinarsi la propria morte eppure temeva questo più dell'ora della propria morte e si sentì confortato nel vedere la fedeltà di fiore di pero. Così un giorno la chiamò a sé e disse non c'è nessuno oltre a te a cui io posso lasciare la mia scioccherella quando sarò morto e lei continuerà a vivere dopo di me perché la sua mente non ha ansie e niente potrà ucciderla e nessuna ansia preoccuparla e so bene che quando io non ci sarò più nessuno si prenderà la pena di darle da mangiare o di toglierla dalla pioggia e dal freddo dell'inverno e di metterla sotto il sole dell'estate e la manderanno forse fuori a vagare per le strade. Questa povera creatura che per tutta la sua vita è stata curata da sua madre e da suo padre. Qui in questo pacchetto c'è la porta per la sua salvezza e quando morirò dopo che sarò morto dovrai mescolarne il contenuto nel suo riso e farglielo mangiare in modo che possa seguirmi dove io sarò e così sarò tranquillo. Ma fiore di pero si ritrasse vedendo la cosa che lui teneva in mano e disse alla sua maniera delicata non sono capace di uccidere un insetto e come potrei prendere questa vita. No mio signore ma mi prenderò cura di lei perché tu sei stato buono con me più buono di chiunque altro nella mia vita e in verità l'unico buono. Wang Lung avrebbe potuto piangere a quelle parole perché nessuno l'aveva mai ricompensato così nella vita e il suo cuore si strinse a lei e disse prendilo lo stesso bambina mia perché non mi fido di nessuno più che di te ma anche tu dovrai morire un giorno anche se non riesco a dirlo e dopo di te non c'è nessuno no nessuno e so bene che le mogli dei miei figli sono troppo impegnate con i loro bambini e le loro liti e i miei figli sono uomini e non sanno pensare a queste cose. Comprendendo ora il significato delle sue parole fiore di pero prese il pacchetto e non disse altro e Wang Lung si fidava di lei e si sentì sollevato dalla preoccupazione per il destino della sua scioccherella. A questo punto Wang Lung si ritirò sempre di più nella sua vecchiaia passava molto tempo senza vedere nessuno all'infuori delle due creature nelle sue corti la sua scioccherella e fiore di pero. A volte si riscuoteva un po' e guardava preoccupato fiore di pero e diceva è una vita troppo tranquilla per te bambina mia. Ma lei rispondeva sempre gentilmente con profonda gratitudine è sicura e tranquilla e a volte le diceva sono troppo vecchio per te il mio fuoco è cenere ma lei rispondeva sempre con profonda riconoscenza tu sei buono con me e altro non desidero in un uomo. Una volta dopo che ebbe parlato così Wang Lung provò curiosità e le chiese cos'è stato che da bambina ti ha fatto venire tanta paura degli uomini e in attesa di una risposta la guardò e vide un grande terrore nei suoi occhi che lei si affrettò a coprire con le mani sussurrando odio tutti gli uomini tranne te ho odiato ogni uomo anche mio padre che mi ha venduta da loro ho sentito solo cose terribili e li odio tutti. Allora lui disse stupito credevo che tu avessi vissuto bene e tranquilla nelle mie corti. Provo solo ribrezzo disse lei voltando il capo provo solo ribrezzo e li odio tutti odio tutti gli uomini giovani. Non volle dire altro e Wang Lung si mise a riflettere non capiva se Lotto le avesse raccontato storie della propria vita e l'avesse minacciata o se Cucù l'avesse spaventata con qualcosa di sconcio o se segretamente le fosse capitato qualcosa che non voleva raccontargli o chissà cos'altro. Sospirò e smise di fare domande perché più di tutto adesso voleva pace e voleva solo sedere nella sua corte accanto alle due creature. Così Wang Lung sedeva e giorno dopo giorno e anno dopo anno la vecchiaia lo raggiungeva e dormiva a tratti al sole come aveva fatto suo padre e si diceva che la sua vita era finita e ne era soddisfatto. A volte ma di rado andava nelle corti esterne e a volte ma più di rado vedeva Lotto che non menzionò mai la ragazza che lui si era preso ma lo salutava cordialmente ed era troppo vecchia e soddisfatta del cibo e del vino che amava e dell'argento che le bastava chiedere per ottenerlo. Dopo tanti anni lei e Cucù sedevano insieme come amiche e non più come padrone e serva e parlavano di questo e di quello e soprattutto dei vecchi tempi con gli uomini e sussurravano insieme di cose che non avrebbero detto a voce alta e mangiavano e bevevano e dormivano e poi si riprendevano per spettegolare prima di mangiare e bere un'altra volta. E quando Wang Lung cosa che capitava molto di rado andava nelle corti dei suoi figli loro lo trattavano con cortesia e correvano a prendergli il tè e lui chiedeva di vedere l'ultimo figlio e lo chiedeva molte volte perché dimenticava facilmente quanti nipoti ho adesso e uno era pronto a rispondergli undici figli e otto figli hanno fra loro i tuoi figli e lui ridacchiava ribattendo ne aggiungo due ogni anno e ne saprò il numero è così? Poi restava a sedere un po' e guardava i bambini che si radunavano intorno a lui per osservarlo i nipoti erano ormai alti e lui li guardava cercando di capire come fossero e mormorava fra sé quello assomiglia al suo bisnonno ed ecco là un piccolo mercante liu e questo sono io da giovane e chiedeva loro andate a scuola? Sì nonno rispondevano in coro sparso allora lui diceva ancora e studiate i quattro libri? A quel punto loro ridevano con chiaro e giovane scherno di quell'uomo così vecchio dicendo no nonno nessuno studia più i quattro libri dopo la rivoluzione e lui medita bondo sì ho sentito parlare di una rivoluzione ma ho avuto troppo da fare nella vita per curarmene c'era sempre la campagna ma quelle parole i ragazzini ridacchiavano e alla fine Wang Lung si alzava sentendosi solo un ospite nelle corti dei suoi figli poi dopo un po' non andò più a trovare i suoi figli una volta chiese per esempio a Cucù e le mie nuore hanno fatto la pace dopo tutti questi anni e Cucù sputò a terra e disse quelle sono in pace come due gatti che si guardano di traverso ma il figlio maggiore stanco dei lamenti della moglie per qualsiasi cosa è una davvero troppo per bene parla sempre di quello che faceva nella casa del padre ed è capace di sfibrare un uomo correvoce che lui se ne stia prendendo un'altra va spesso nelle case da te ah sì disse Wang Lung ma quando poi ci pensava il suo interesse per la faccenda calava e prima che potesse rendersene conto era tornato col pensiero al proprio te e al fatto che il giovane vento di primavera colpisse freddo alle sue spalle e un'altra volta disse a Cucù qualcuno ha avuto mai notizie del mio figlio più piccolo dove è stato tutto questo tempo e Cucù rispose perché non c'era niente che non conoscesse in quelle corti beh lettere non ne scrive ma ogni tanto arriva qualcuno dal sud e correvoce che sia un ufficiale militare abbastanza importante in una cosa che la chiamano rivoluzione ma cosa sia non lo so forse qualche genere di commercio e di nuovo Wang Lung disse ah sì e ci avrebbe pensato ma stava scendendo la sera e le sue osse erano doloranti nell'aria cruda e pungente dopo che il sole si era ritirato la sua mente infatti andava ora dove voleva e non riusciva a tenerla fissa a lungo su nessuna cosa e più di tutto il suo vecchio corpo aveva bisogno di cibo e tè caldo ma di notte quando aveva freddo fiore di pero era accanto a lui giovane e calda e averla nel proprio letto con il suo calore era un conforto per la sua vecchiaia così le primavere trascorsero e con la vicendarsi degli anni lui le sentiva arrivare in maniera sempre più confusa una cosa però gli rimase ed era l'amore per la sua campagna se ne era allontanato e aveva preso case in città ed era ricco ma le sue radici erano nella sua campagna e pur dimenticandosene per molti mesi di seguito ogni anno all'arrivo della primavera sentiva di doverci andare e sebbene non fosse più in grado di tenere un aratro o di fare qualsiasi cosa ma solo di vedere un altro guidare l'aratro attraverso la terra non poteva far a meno di andarci a volte prendeva con sé un servo e il suo letto e dormiva di nuovo nella vecchia casa di terra e nel vecchio letto dove aveva concepito i suoi figli ed era morta olan quando si svegliava all'alba usciva e tendendo le mani tremanti raccoglieva un po di salice in fiore qualche ramoscello di pesco in fiore che stringeva poi fra le dita per tutto il giorno così un giorno di tarda primavera quasi estate vagò un po per i suoi campi e arrivò al punto recintato sopra una bassa collina dove aveva seppellito i suoi morti appoggiandosi tremante al bastone guardò le tombe li ricordò tutti uno a uno ora li vedeva più chiaramente dei figli che vivevano nella sua casa più chiaramente di chiunque altro fatta eccezione solo per la sua scioccherella e fiore di pero e la sua mente tornò indietro di molti anni e vide tutto con chiarezza persino la sua seconda figlioletta di cui non aveva avuto più notizie da molto tempo e se la vide davanti una bella ragazza come era quando stava nella sua casa le labbra sottili e rosse come una stresciolina di seta ed era per lui come quelli che giacevano lì nella campagna allora si mise a riflettere all'improvviso pensò bene e io sarò il prossimo poi entrò nel recinto e guardò con attenzione e vide il posto dove sarebbe giaciuto sotto suo padre suo zio e sopra cinghe non lontano da olan osservò il pezzetto di terra riservato a lui e vi si vide là tornato per sempre alla sua campagna e mormorò devo provvedere alla bara il pensiero gli si era infisso saldo e doloroso nella mente tornò in città e mandò a chiamare il figlio maggiore gli disse ho da dire una cosa di là su rispose il figlio sono qui ma all'improvviso non ricordava più quel che avrebbe voluto dire ai suoi occhi si riempirono di lacrime perché aveva trattenuto con tanta pena il pensiero nella mente e quello adesso scivolava caparbiamente via da lui chiamò allora fiore di pero e le disse bambina cos'è che volevo dire e fiore di pero rispose gentilmente dove sei stato oggi sono stato in campagna rispose wang lung in attesa gli occhi fissi sul suo viso e lei chiese ancora gentilmente in quale punto della campagna e all'improvviso la cosa volò di nuovo nella sua mente e lui esclamò ridendo con gli occhi umidi ecco mi ricordo figlio mio ho scelto il mio posto nella terra ed è sotto mio padre suo fratello e sopra tua madre e accanto a cinghe e vorrei vedere la mia bara prima di morire allora il figlio maggiore di wang lung esclamò come era appropriato e giusto non pronunciare quella parola padre ma farò come dici allora suo figlio comprò una bara intagliata fatta con un grande tronco di un legno profumato che si usa per seppellirvi i morti per nient'altro perché è un legno duraturo come il ferro e più duraturo delle ossa umane e wang lung ne fu confortato e fece portare la bara nella sua stanza e ogni giorno la guardava poi all'improvviso ebbe un pensiero e disse vorrei che fosse portata nella casa di terra la voglio vivere i miei ultimi giorni e la voglio morire vedendo che questo era il desiderio del suo cuore fecero come voleva e così wang lung tornò nella sua casa e nelle sue terre lui e fiore di pero e la scioccherella e i servi di cui avevano bisogno e così prese nuovamente dimora nelle sue terre e lasciò la casa in città alla famiglia che aveva fondato la primavera passò e l'estate si trasformò nell'autunno e sotto il caldo sole autunnale prima dell'inverno wang lung sedeva dove era stato seduto suo padre contro il muro e non pensava più a nulla se non al mangiare e al bere e alla sua campagna ma della campagna non pensava più a come sarebbe stato raccolto o a cosa piantare o ad altro ma aveva in mente solo la campagna per se stessa e a volte si chinava e raccoglieva un po di terra nella mano e poi sedeva così stringendola e sembrava quella terra piena di vita e tenendola così era contento e a sprazzi pensava alla terra e alla sua buona bara che era lì e la terra gentile lo aspettava senza fretta i suoi figli erano rispettosi con lui quanto basta e andavano a trovarlo ogni giorno al massimo ogni due e gli mandavano cibo delicato adatto alla sua età ma lui preferiva mangiare cose sostanziose in forma di minestra che sorseggiava come faceva un tempo suo padre a volte si lamentava un po dei suoi figli se non venivano ogni giorno e diceva a fiore di pero che gli stava sempre accanto ma cosa hanno tanto da fare ma se fiore di pero diceva sono nel fiore dei loro anni hanno molte faccende da sbrigare il maggiore è stato nominato ufficiale in città tra i ricchi e ha una nuova moglie e il secondo sta mettendo su per sé un grande mercato del grano wang lung lo ascoltava la ascoltava ma non riusciva a capire tutto questo e lo dimenticava non appena rivolgeva lo sguardo sulla sua campagna ma un giorno per un po ci vide chiaramente quel giorno i due figli erano venuti e dopo averlo educatamente salutato uscirono e camminarono attorno alla casa e poi in direzione della campagna wang lung li seguì in silenzio loro si fermarono e lui si avvicinò lentamente e loro non sentirono il suono dei suoi passi né quello del suo bastone sulla terra morbida allora wang lung sentì il secondo figlio dire con la sua voce affettata questo campo lo vendiamo e anche quello e ci dividiamo in parti uguali soldi prenderò in prestito la tua parte a un buon interesse perché adesso con la ferrovia che passa di qui posso mandare il riso fino al mare e ma il vecchio sentì solo quelle parole vendere le terre e lanciò un grido e non poteva impedire alla sua voce di spezzarsi e tremare per la rabbia figli inutili e crudeli vendere le terre disse col respiro in gola e per poco non cadde i figli lo afferrarono e lo sostenero e lui cominciò a piangere allora dissero per consolarlo no 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 non venderemo mai le terre è la fine di una famiglia quando si comincia a vendere le terre disse con voce rotta siamo venuti da là e là dobbiamo tornare e se terrete le vostre terre potrete vivere nessuno potrà rubarvele e il vecchio lasciò che le sue scarse lacrime si asciugassero sulle le sue guance dove lasciarono macchie salate e si chinò e prese una manciata di suolo e lo tenne in mano e mormorò se vendete le terre sarà finita e i suoi due figli lo sorressero ciascuno per un braccio mentre lui stringeva nella mano la terra calda e morbida e lo consolarono ripetendo il figlio maggiore il secondo stai tranquillo padre stai tranquillo le terre non saranno vendute ma si lanciarono uno sguardo sopra la testa del vecchio e sorrisero fine